Muore a 15 anni, dramma all'ospedale Moscati di Avellino, Montella sotto shock per la tragica fine di Michele, rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta martedì scorso. Oggi dopo 5 giorni il suo cuore ha smesso di battere, era ricoverato nella rianimazione del Moscati. La tragedia si era consumata in via Fratelli Pascale, dove il 15enne era in sella la sua bici quando è caduto, pare nel tentativo di non investire un cane. Siamo distrutti, il nostro Natale è stato funestato, commenta il sindaco Rizieri Buonopane a nome dell'intera comunità montellese. Un lutto difficile a prescindere, arriva anche in un momento del tutto particolare, dove c'è già tanta sofferenza. Abbiamo pregato e sperato che Michele potesse farcela, le condizioni però sono subito sembrate critiche. Purtroppo oggi il suo cuore, il giovane cuore ha smesso di battere, l'intera comunità lo piange. Ovviamente esprimo vicinanza alla famiglia, agli amici. Una tragedia immane perché a quell'età non si può perdere la vita. Ho sentito la mia maggioranza, domani proclameremo il lutto cittadino per esprimere vicinanza e dell'amministrazione di tutta la comunità, alla famiglia per ricordare questa giovane vittima di un destino assurdo e crudele.